Ben trovati a TGTG, è stata approvata all'alba di oggi la manovra 2020 dal governo e proprio oggi ne parliamo nel nostro studio con il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Abbiamo tanto da raccontarvi e da capire per quanto riguarda le tasse, l'uso dei contanti, la lotta all'evasione, le famiglie, le pensioni, subito dopo la nostra sigla, assieme ai titoli del TG della Sera. Confermata quota 100, IVA bloccata più soldi in vista paga, bonus facciate per le ristrutturazioni. Nella manovra del governo Contevis, misure per il welfare e lotta all'evasione, stretta sul contante incentivi per chi usa moneta elettronica, multe ai commercianti che non accettano pagamenti con il POS, il PD, ci sono le condizioni per un'Italia più giusta. Critiche le opposizioni, solo tasse e coperture a rischio, così si mortificano imprese e lavoratori. Mattarella alla Casa Bianca, amicizia e collaborazione, ma divergenze su Dazi e Nato, il capo dello Stato, i Dazi non giovano a nessuno, meglio un accordo e alle osservazioni sulla Nato di Trump. L'Italia aumenti le spese, la replica di Mattarella, il nostro paese dopo gli USA è il secondo contributore. Mattarella alla Casa Bianca, sui Dazi auspico confronto collaborativo, tensioni commerciali non giovano a nessuno, Trump valuteremo le rimostranze italiane. Grazie ancora per essere con noi. Avviso che la prima notizia dei maggiori telegiornali della sera è proprio sui Dazi, non posso non chiederle per un valore di circa 450 milioni di dollari, che cosa ne sarà secondo lei? Le parole di Mattarella sono state parole coraggiose alla Casa Bianca. Sì, lo ringrazio perché mettere al centro questo tema vuol dire intanto aprire un dialogo, continuare un dialogo che è indispensabile affinché l'economia italiana, il Made in Italy e tutto quello che ne comporta in termini di aziende, famiglie, produzione, sia tutelato. Quindi grazie ancora per questo. Lei è positiva su una soluzione? Io credo che questo tipo di dialogo e questi segnali aiutino a fare la cosa giusta e soprattutto evitare che si possano perdere tante risorse. Siamo un paese d'eccellenza e in questo dobbiamo difenderci in qualche modo. Allora, ci aiuti a capire la manovra che avete appena approvato, insomma una manovra, ci facciamo aiutare anche dalla grafica, per capire insieme parliamo di 31 miliardi di euro. Anzitutto è stata una nottataccia, come è andata proprio l'approvazione così lunga alla fine? Beh diciamo che le voci sono tante e quindi giustamente il ministro Gualtieri ha voluto spiegare passo dopo passo tutto quello che è contenuto, anche perché l'approvazione del documento di ieri sera ci porterà 3-4 mesi di lavoro nei quali si andranno a esaminare in Parlamento due leggi molto importanti, sono le leggi dell'anno e quindi il tempo che serve credo che sia giusto prenderselo. La scadenza era per Bruxelles che ora vedrà, passiamo al prossimo cartello, per la vita, un po' il taglio della trasmissione questa sera, proprio per la vita nostra di tutti noi, che cosa cambierà? Allora, cominciamo proprio dai consumi perché si è evitato lo stop all'aumento dell'IVA. Una grandissima preoccupazione. Sì, era pericoloso e diciamo che anche questo governo è nato sotto questa indicazione, quello di evitare un aumento dell'IVA che avrebbe pesato molti molti soldi nelle famiglie italiane, quindi questo non volevamo assolutamente permetterlo. E poi la lotta all'evasione, la stretta al contante mi sembra essere, se d'accordo, un po' al centro, se volessimo comunque sintetizzarlo, insomma una direzione ben precisa che è stata presa. Una lotta all'evasione su tanti temi, perché la lotta all'evasione vuol dire molte cose. Io ho lavorato personalmente su alcune frodi che riguardano i carburanti, che è un tema molto sentito in alcune zone d'Italia, anche altre frodi sulle compensazioni delle cartelle dell'Inps, insomma c'è stato un lavoro molto delicato e che è durato tutto l'anno e che oggi ci permette di arrivare qua. Allora, nel dettaglio scenderà gradualmente però nel tempo il massimo consentito per i contanti, inizialmente da 3.000 euro, dunque 2.000 euro, poi alla fine 1.000 euro, e promuovendo sempre di più il sistema di pagamento elettronico. Questo però in un paese che forse non è così avvezzo, ancora sensibile, se pensiamo soprattutto alle generazioni più alte, avete pensato anche agli anziani? Allora, il tema è che un processo di questo tipo è fatto in maniera graduale, quindi ci siamo impegnati a farlo passo dopo passo senza dar disturbo alle famiglie e anche alle persone che hanno un'età maggiore. Ricordo che lo stesso reddito di cittadinanza, a cui come le immagino sono molto affezionata, perché insieme al Ministro Di Maio l'abbiamo costruito, all'attuale Ministra Catalfo che sta in Parlamento, era già calato su un pagamento elettronico, quindi diciamo che molti sono le persone con un'età anagrafica alta che usano il reddito di cittadinanza e quindi sono già stati abituati a utilizzare questo. Però ecco, va fatto in maniera graduale senza scossoni. Sono numeri importanti quella della lotta all'evasione, contate di riuscire in qualche modo ad incassare 7 miliardi di euro. Questo è un aspetto importante. Lei rappresenta il Movimento 5 Stelle che ha sempre avuto della legalità, un tema così forte. Possiamo però dire che nella storia anche dei vari esecutivi la lotta un pochino all'evasione è stata una costante. Ecco, quello che non si è riuscita a fare fino adesso, secondo lei, ci riuscirete su questo tema? Beh, c'è una volontà di intenti comune e credo che anche utilizzando strumenti innovativi come quelli che abbiamo messo in campo, delle volte le persone non se ne accorgono, ma ci sono nei controlli elettronici che non invadono la vita di tutti i giorni delle persone, si riescono a far emergere molte risorse. Quindi il tema è riuscire a recuperare soldi che possono ridurre le tasse agli italiani. Questo è il patto con gli italiani. Aiutiamoci a far emergere l'evasione e a poter ridurre le tasse per tutti. È stato un po' anche così come l'ha descritta anche il Presidente del Consiglio Conte, insomma questo taglio. Andiamo ancora nel dettaglio, perché per quanto riguarda la sanità, lo stop, quindi diamo il pagamento appunto con i mezzi elettronici, al super ticket, che partirà da settembre 2020? Sì, perché appunto questo è un tema molto delicato. Ci sono delle regioni che non per colpa dei cittadini che la popolano hanno un super ticket che purtroppo pesa sulle tasche degli italiani e ci sembrava necessario abolirlo. Quindi si comincerà dalla seconda metà dell'anno e poi si azzera completamente. Allora, come è stata giudicata un po' a caldo la manovra? Guardate le prime pagine dei giornali di oggi, siamo a sera, quindi possiamo un pochino a freddo farlo, perché si è partito così. Avvenire, stretta sull'evasione, quindi si è puntato su quanto abbiamo detto oggi, sul tetto a mille euro per i contanti, sulle multe di cui non abbiamo parlato e poi la lotteria anche degli scontrini, come quel sistema a cui accennava, giusto? Sì, è un sistema di lotta all'evasione che ha ottenuto molti risultati, soprattutto in Portogallo. In Portogallo sono riusciti, era uno stato che era messo molto peggio dell'Italia, l'Italia comunque si difende abbastanza bene e ha fatto emergere molte risorse. Il giornale invece, ben più severo, schiaffa i pensionati. Non mi risulta questo. Il governo conferma per ora quota 100, ma la ricalcola è umiliante, 50 cent al mese. Perché? Se vuole lo affrontiamo insieme, anche adesso lo anticipiamo, nel prossimo cartello, sulle pensioni. Allora, salvata dunque quota 100, però si è calcolato che per quanto riguarda la mini rivalutazione, cioè tra chi percepisce una pensione che va tra 1.522 a 2.029 euro, ci sarà un aumento calcolato di circa 52 centesimi al mese per 6 euro all'anno. È tutto vero? È così? È un segnale, tra l'altro negli incontri con i sindacati era stato chiesto, certo se avessimo molti miliardi da poter mettere sulle rivalutazioni l'avremmo fatto, questa è una manovra dove c'è dentro la riduzione del comuneo fiscale in maniera molto importante, quindi dedichiamo 3 miliardi quest'anno e 5 in quello successivo poi al regime su una riforma dell'IRPEF, quindi partiamo delle tasse dei lavoratori dipendenti che per troppo tempo non hanno visto una politica che si impegnava nel ridurgli un po' le tasse. Tra l'altro su redditi che erano esclusi inizialmente proprio dal bonus previsto. Esattamente, questo aveva fatto arrabbiare un po' gli italiani. Allora, qualcuno non so se è arrabbiato oppure no, ma il nostro Augusto Cantelmi è andato oggi al Parlamento come sempre per raccogliere un po' di voci di piazza ma anche di colleghi per capire un po' le reazioni a caldo. Vogliamo sentire che cosa hanno detto? Eccolo qua. Indietro, venga, venga, così. La manovra. Senatore, ma che voto metterebbe a questa manovra? È sufficiente, insufficiente, da rivedere? È una buona manovra. Eh, direi pessimo, nella maniera più assoluta. Vengono a prendersi il caffè anche pagando con la carta. Ho chiesto anche, faccio a mia moglie, che è lei che gestisce, ma ho chiesto alla banca quanto ci costano queste commissioni, perché anche per un euro... Per esempio, una manovra coraggiosa è togliere gli oneri di sistema dalle bollette. Vedi come inizia a cambiare quella? Già inizia a essere una manovra espansiva, una manovra che parla alle famiglie, ai piccoli imprenditori. Però, messa come è stata messa, così in prima battuta, poi ci auguriamo ci si possa lavorare sopra, comunque si va a ghettizzare, a mio avviso, un po' il mondo dei piccoli imprenditori, che appunto sembrano quelli che vadano le tasse. Se va solo, ma dici che va solo, devono andare in galera? Indietro, venga, venga, così, 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 ancora, ancora. Con un sorriso verrebbe da dire ogni manovra fa i suoi danni, riferita alle auto, ma non solo. Se vogliamo tornare seri, sicuramente si accontenta e si scontenta qualcuno, questo mi sembra... Il principio dell'economia pubblica. Esatto. E a che cosa risponde a queste reazioni che ha sentito? No, beh, è chiaro che le forze politiche di opposizione non possono... cioè, avrebbero fatto magari qualcosa di diverso, o anche solo per il fatto che sono in opposizione e dicono che non gli piace. Ne discuteremo, sicuramente il passaggio parlamentare migliorerà ancora al testo. Io credo che il Parlamento in questo sia sempre migliorativo e il dibattito, il confronto, limitatamente alle risorse che abbiamo a disposizione, può essere sempre positivo. Ecco, una cosa, ci parlavamo anche prima di andare in onda per spiegarlo a noi stessi, a chi ci segue a casa. Il significato di salvointese, qual è? Allora, ieri abbiamo approvato i numeri, quindi quelle che sono le risorse che si spostano, le tasse dei cittadini che quest'anno si mettono a disposizione della finanza pubblica. E che vengono comunicate a Bruxelles. Esatto, che Bruxelles deve approvare. Da questi numeri si fanno due testi, uno è il decreto fiscale, che è un po' più tecnico, serve per recuperare alcune risorse, eccetera, e l'altro è la legge di bilancio, che è il racconto un po' più dettagliato di che cosa si vuole fare durante tutto l'anno successivo e il triennale. Salvointese significa che il Consiglio dei Ministri ha discusso di questi numeri, li ha approvati, quindi ha cominciato a generare questi due testi sui quali per le finezze delle norme si dovrà rivedere e riapprovare in qualche modo i testi. Quindi dare un ultimo check finale, perché passare dai numeri ai testi, come lei può immaginare, insomma c'è ancora tanto lavoro. Allora, entriamo tra pochissimo nel tema del lavoro, del taglio del cono fiscale, ma anche quello della famiglia, che è molto molto importante ovviamente. Prima però vorrei vedere insieme a voi che ci seguite gli altri titoli di telegiornale. Vediamo un po' cosa sta succedendo in queste ultime ore. Eccoli. E intanto la povertà galoppa. Siamo sesti in Europa. Il 27% degli italiani potrebbe finire ai margini. Eurostat lancia l'allarme e Coldiretti conferma 1 su 10 ha poco o nulla da mangiare. E nella giornata dell'alimentazione, Adconsum denuncia in un anno sprechiamo 146 chili di cibo a testa. Il Papa è crudele, ingiusto e paradossale. Il segretario di Stato USA, Mike Pompeo, ad Ankara. La Turchia fermi l'offensiva. Erdogan via i curdi dalla fascia di sicurezza. Di Maio firma l'atto per lo stop delle vendite di armi. Incontro tra il Presidente della Repubblica e Donald Trump. Mattarella chiede un confronto sui dazi ed esprime preoccupazioni per la Siria. Come vedete ancora, insomma, fatti che ci riguardano molto da vicino, altri più lontani però ovviamente con ripercussioni. L'attenzione appunto è sulla manovra prima di vedere come è salita anche la notizia per l'appunto dei dazi che abbiamo commentato insieme. Entriamo allora nel dettaglio. Continuiamo a farlo per quanto riguarda per l'appunto anche le pensioni che abbiamo visto prima e il lavoro. Il taglio del cuneo fiscale. Allora, qui si parla di una, di un, provo a tradurre, taglio delle tasse per lavoratori dipendenti. In una fascia però ben precisa. No, e ancora dobbiamo decidere come scrivere. Perché è riuscito questo, diciamo, questo tipo di specifica, oggi anche sulle 24 ore. È un'ipotesi, che probabilmente sulle 24 ore ha riportato. In realtà sarà fatto attraverso un collegato, si chiama, quindi abbiamo messo le risorse che saranno necessarie per scrivere una riforma dell'IRPEF che prevederà una rimodulazione dell'IRPEF. Ora le chiedo, andate con il viceministro qui, allora sarete voi un pochino a decidere. Pensate di orientarvi su questa fascia? Allora, in realtà abbiamo cominciato a sentire le parti sociali. La mia forza politica pensa che ci si debba concentrare sul ceto medio. L'anno scorso abbiamo fatto il reddito di cittadinanza. Sentivo prima anche il tema della povertà. È un tema che è ancora aperto e che evidentemente dimostra quanto fosse necessaria una misura come il reddito di cittadinanza. Io le ho conosciute le persone che hanno cominciato a prenderlo e che non avevano niente. Le assicuro che sono storie davvero toccanti per le quali era necessario. Questo sì, il problema è che si sentono anche delle storie che saranno sicuramente delle eccezioni di chi invece ha rinunciato a un tipo di lavoro oppure di una possibilità per magari questa e sicuramente, come dire, non si è potuta cancellare la povertà. No, è un processo lungo. Devo dire che mi stupisce c'è chi attacca il reddito perché non l'aveva fatto in maniera così incisiva nessuno. Avevamo prima uno strumento che per carità aveva cominciato a dare un segnale che era molto molto piccolo rispetto alle risorse che abbiamo messo noi. Si può sempre fare meglio e migliorare. È un processo che vuole anche coinvolgere e deve coinvolgere anche gli enti territoriali, le regioni, la società civile, il terzo settore. Parlavamo del cibo sprecato. quello è un tema da terzo settore. Bisogna organizzarsi insieme al mondo dei privati quindi c'è ancora moltissimo da fare in tema di comunità. Sì, e anche perché poi c'è tutto un mondo che permette anche di un sostegno assolutamente concreto, penso alla realtà, cattolica e non solo, ben presente in tante città, sul territorio, nel silenzio anche dei media che fanno questo lavoro Si da forse delle volte per scontato, ma insomma quando poi uno lo vive da vicino capisce che scontato non è e che anzi rappresenta un pezzo importante del territorio, del tessuto, senza il quale evidentemente quel numero che si citava sulla proprietà sarebbe veramente molto molto più alto. Anticipo una buona notizia che volevamo dare oggi. A questo punto la approfittiamo perché siamo in tema e riguarda una persona veramente straordinaria che ha 90 anni usa il suo tempo per gli altri ed è lo chef dei poveri. È il World Food Day, guardatelo con noi, 90enne che sfama 250 persone al giorno ed è una bellissima storia che è stata diffusa e svela la figura di Dino Impagliazzo che da più di 10 anni sfama oltre 250 senza tetto e poveri presso le stazioni ferroviarie di Roma ed è riuscito a costruire anche una rete di assistenza per gli altri. Sono, come dire, viceministro, delle storie non incardinate così in istituzioni se non quelle che dal basso si creano che però, devo dire, mi sembra che sostengono giuttivamente tutta una parte della popolazione difficoltà. Sì, assolutamente ed è per questo che invece dico da rappresentante delle istituzioni che anche per queste storie va ampliato il lavoro che le istituzioni fanno sul lato della famiglia e con questa manovra c'è un pilastro molto importante che riguarda la creazione di questo fondo dove confluiranno tutte quelle risorse che oggi sono un po' sparse sulla famiglia che riguardano primo figlio che riguardano la maternità. L'obiettivo è quello di poterle concentrare in maniera migliore e si spera arrivare a quello che abbiamo definito assegno unico. Allora, arriviamo proprio a questo era l'ultimo cartello che avevamo previsto sulla famiglia un mega fondo da 2 miliardi di euro complessivo dal 2020 nascita a Pebè voucher asilinido in un unico fondo e poi la carta bimbi solo che domani ecco ci sarà un flash mob del forum delle associazioni familiari per mettere un pochino l'attenzione su il bonus invece questa carta bimbi a sostegno mensile di tutte le spese familiari perché se non erro proprio su questo ultimo provvedimento ancora i fondi non sono stati assegnati. Insomma la creazione del fondo così come avevamo fatto sul reddito di cittadinanza ci permette di essere pronti appena la riorganizzazione di queste tante risorse io dico sempre che la politica fa più in fretta a creare uno strumento nuovo che coordinare quello che già ha e questo significa anche proprio come regole sperperare delle risorse perché fa molto più insomma clamore creare una misura nuova dargli un titolo comunicativo piuttosto che mettere a sistema una serie di misure che poi si perdono perché lei non si ricorda magari come fa se ha il primo figlio ad accedere a uno strumento piuttosto che a un altro col forum famiglia noi ci parliamo sempre quindi abbiamo cercato di dire loro che abbiamo cominciato a mettere delle risorse che si aumentano negli anni perché è un processo programmatico io avevo cominciato questo lavoro con il processo di spending review perché riorganizzare significa anche non sprecare risorse e riuscire a farle arrivare alle famiglie considerando che alcuni di questi strumenti vanno solo per categoria di reddito quasi come se il tema delle famiglie fosse un tema solo per persone con bassissimi redditi invece le storie delle famiglie ti raccontano che si sentono un po' esclusi da un sistema familiare che per esempio in Francia è strutturato anche per il ceto medio anche per il ceto medio assolutamente e viceministro le volevo chiedere in chiusura come va nel senso che come sono i rapporti anche all'interno di questa maggioranza inedita sentite la pressione renziana riuscite a lavorare ma bene io sono una persona che insomma lavora con le persone che hanno voglia di migliorare questo paese insomma chi mi conosce lo sa è un confronto schietto sincero che ha un grande senso di responsabilità perché insomma non è facile stare con una forza politica come il Movimento 5 Stelle che ha un programma ha dei punti e che come ha dimostrato con il taglio dei parlamentari porta avanti a ogni costo insomma e con il ministro Gualtiere il suo ministro so che era in riunione poco fa prima di arrivare e ha molta esperienza sui temi europei tema che peraltro a me un po' manca quindi c'è un grande scambio allora grazie per essere stata con noi domani sarà la giornata nazionale anche la carità se l'ho ricordato di lotta alla povertà quindi speriamo che questo sia un tema insomma che porterete avanti il ministro e quando vorrà tornare ci racconterà per appunto i passi fatti grazie chiudiamo con con una parte della sua Sicilia so anche e che riguarda l'anniversario quello per la giornata di domani quando Pio XII riconosce il miracolo della Madonna delle Lacrime che celebra dunque celebrata nel santuario di Siracusa visitabile come sempre ancora oggi a cui siamo ovviamente tutti noi molto legati grazie ancora vice ministro ci vediamo domani parleremo di agricoltura arrivederci a tutti e buona serata grazie